Ah, ma davvero suicidarsi non è una cosa bella? No! Vedete bambini, questo qua si chiama Carlo Cognome. Lui è un bambino stupido. Perché? Perché lui si rifiuta di vivere. Perché si rifiuta di vivere? Perché è stupido. In ogni caso, lui, se dovesse un giorno prendere uno sgabello e una corticella, smetterebbe di fornire mano d'opera per la nostra società capitalista. Questa cosa non va bene perché lavoro uguale soldi. Lui deve fornire lavoro al McDonald's così noi facciamo soldi. Perché il suo scopo nella sua esistenza è lavorare a McDonald's finché non muore con una pensione che arriverà a circa i 175 anni. Poi cazzi suoi se non ci arriva. In ogni caso, lui non ha capito che non deve suicidarsi perché non è una cosa bella. Detto questo, vado a buttarmi dalla finestra.